Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Antutv Milame Qua cadono le cose così all'improvviso Boh Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Antutv Finalmente ritorno Sbaglio a remettere questo Ok no sta benissimo Finalmente ritorno a fare video raga Non ce la facevo a stare così A vedere il mio canale Vuoto non vedendo i commenti E i mi piace Allora ho detto vaffanculo Ritorno un poco a fare video Tra due settimane o la settimana prossima Mi prenderò la scueta La scueta Mi prenderò la scueta di acquisizione dati Niga 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 Webcam messa male Nell'acquisizione dati così registrerò Questo L'Xbox Ok sta messa bene E registrerò alcune partite su vari giochi Soprattutto FIFA Ultimate Team Che è stato anche consigliato Sulla pagina Facebook E quindi sarà uno dei maggiori video Che potrete trovare sul canale Se vi state chiedendo Ah Se vi state chiedendo cos'è questo In pratica l'ultimo giorno di scuola Mi sono fatto male E abbiamo messo tre punti Quindi non scrivete nei commenti Che cazzo viene in testa E la scueta E sono dei punti E medicazione Quindi anche per questo Non ho potuto fare Perché sennò sarei tornato prima Quindi spero che vi faccia piacere Di avermi di nuovo Tra le palle su YouTube Sperando che vi piace Non mancheranno mai Perché come già detto Non mi piace Non notifica video Capito? Capito? Consigliarmi nei commenti Che gioco devo fare Perché sono accorto Se volete Call of Duty Ghost Se volete Battle 34 Se volete Cat Mario Perché non E quando mi chiama Mario Quando mi chiama Mario su Sky Proprio quando sto a fare un blog Ciao Mario Ciao Legge il menu ad escriti Sky Sì ma stavo facendo un blog Sì Saluta tutti quanti Io sto facendo il blog Devo chiedere la chiamata Ciao a tutti Ok ciao Mi fai venire Sto cazzo di vlog Hai un tepismo incredibile Allora Iniziano due minuti Fai rotto il cazzo Posso chiedere la chiamata? Sì Ok Aspetta Ti chiamo io Un attimo Ciao 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 Allora Scrivetemi nei commenti Che gioco volete che io faccia Ovviamente I giochi che farò Credo che Saranno tutti con webcam Quindi Se mi chiedete Ghost Sarà con webcam Se mi chiedete Vi dovete chiedere Ad esempio Fai un video su Call of Duty Ghost Con The King Mario Con webcam Io lo farò Vi dovete solo scrivere nei commenti Che gioco Oppure gioco horror O gioco scleroso Giochi che ti fanno in cazzo Perché non sia Cat Mario Perché Cat Mario O è mai Tu ho fatto tutti i Cat Mario Non mi dovete rompere le palle Quindi Cercate un altro gioco sclero Dove io posso incazzarvi Come un animale Così vi divertite voi Ok Com'è tutto qui questo video Perché sto morendo dal caldo Non vedo l'ora di accendere il ventilatore E Ciao belli